K2 Disruption Ti2 è uno shipper chiama velocità elevate e grande stabilità nelle curve da gigante come in una gara con un raggio di 22,3 metri e 71 millimetri al centro nella lunghezza di 182 centimetri. Costruzione con doppio strato di titanal nella parte centrale, la tecnologia Dark Mother Dumping di K2 nelle zone periferiche, fianchi in ABS e World Cup Piston Plate. Gli sci hanno un profilo speed rocker. K2 Disruption 177, raggio 20 e 4, quindi un raggio molto impegnativo, ottimo per chi ama fare la curva da gigante con uno sci molto stabile. Secondo me la misura 177, quindi essendo un po' corto lo rende un po' troppo rigido quindi diventa uno sci molto nervoso. L'ho provato sul corto raggio invece per via del basso raggio è semplice da utilizzare, comunque consigliato per fare curve da gigante su piste ampie. Testato su una condizione di neve dura sul fondo, con neve fresca in superficie allora devo dire che è stato uno sci abbastanza particolare, un 21 metri di raggio l'ho trovato a mio avviso poco reattivo nella fase di cambio tanto da far fatica anche a fare il corto raggio nonostante abbia un raggio così lungo e quindi dovrebbe essere avvantaggiato in quell'arco di curva ho fatto davvero fatica. Mi è piaciuto di più a fare un arco ampio dove secondo me è nato per fare questo tipo di curve l'arco medio ovviamente essendo un 21 metri di raggio è un po' più difficoltoso da dover gestire